Io la zuppa di orecchie di maiale neanche la filtro. Ma mi stai seguendo? Sì, la zuppa. Pisellone, tranquillo. Guarda che i soldi te li presto. Come lo sai? Non vieni mai. Non ci voleva molto capirlo. Guarda, scusami, non solo per tamponare, ho già tutto un piano di risanamento. Te li ridò, con quelli dell'altra volta. Sei proprio un coglione. Ma ti pare che non ci aiutiamo tra di noi? Io do a te e tu. Troveremo un modo per farti dare il tuo contributo. Teresa! Teresa! Teresa, sei sempre in disparte. Eh? Perché non iniziate da parecchiare insieme, eh? Chissà quante cose avrete da dirvi. Ah, quasi dimenticavo. C'è una bella sorpresa. Ah, è un po' di te. 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 Grazie a tutti.